Oggi andremo ad effettuare una somma oppure un conteggio basato sul colore delle nostre celle. Lo potremo fare su un perimetro di colonne, quindi su un range. Questa operazione verrà fatta con una funzione customizzata in Visual Basic. Quindi noi con Excel, oltre ad utilizzare le funzioni standard di Excel, possiamo anche creare le nostre funzioni utilizzando appunto il Visual Basic. Vediamo come funziona l'esercizio. Vedete che qui ci sono i colori. Se io prendo questo colore, lo prendo e lo sostituisco a questo arancione, vedremo che l'azzurro salirà, quindi vediamo che il conteggio è cambiato. Se io vengo qui e cambio questa cella, perché poi le formule puntano queste celle, cambio questo colore, lo metto sulla verde e vedremo che anche la verde da 46 passa a 172. Quindi si basa proprio sul colore. Vediamo le formule prima di vedere la funzione. Quindi io qui che cosa ho fatto? Ho fatto una cscolor, quindi conta, somma, colore, count, sum. Ok, ho messo queste due iniziali per richiamare cosa voglio fare con questo tipo di funzione. E poi ho messo che è basato sul colore, quindi questo è un nome che poi possiamo definire come noi vogliamo. All'interno gli passo tre parametri, quindi nella funzione Visual Basic che andremo a vedere tra poco, andremo a configurare tre parametri che gli passiamo. Che cosa gli passiamo? F3, ok, questa qui, è praticamente la cella colore dal quale noi vorremmo andare a fare la somma. Di che cosa? Dell'intervallo. Io voglio analizzare questo intervallo qui, quindi lui prenderà il colore che c'è su questa cella e andrà ad analizzare questo intervallo. E poi cosa gli dico? C se voglio fare un conteggio, S se voglio fare somma. Ok, poi dentro nella funzione ho programmato proprio queste due lettere. Quindi, in base al colore che c'è qui, io andrò a sommare tutte le celle che hanno lo stesso colore. Allora, se non avete il menu sviluppo, perché poi per poter inserire la funzione dovete avere il menu sviluppo, si va nel menu file, opzioni, si va su personalizza barra multifunzione, qui c'è sviluppo, quindi basta attivarlo. Una volta fatto questo, compare sviluppo e qui possiamo andare sul compilatore, quindi Visual Basic. Una volta che arriviamo qui, per inserire questa funzione non dobbiamo farla in un foglio o su questa carta di lavoro, che non è una bella cosa, quindi facciamo un clic destro, inserisci nuovo modulo. Si creerà un modulo e poi qua sotto potete dargli il nome che voi volete, quindi faccio doppio clic e entro nella mia funzione. Qui c'è la funzione che quindi basterà copiarvela e inserirvela, o per chi può scaricare l'allegato che trovate in descrizione, trovate il file con tutto quanto già pronto. Ok, quindi basta inserirla e la funzione inizia appunto a funzionare. Qui ho messo punto, parametro 1, c'è la concolore da utilizzare, parametro 2, range con cui eseguo il calcolo, parametro 3, se è uguale a s il calcolo somma, altrimenti conteggia, quindi se mettiamo una lettera a lui conteggia, perché alla fine io ho cablato solo la s. Poi vediamo come funziona, io ho creato una funzione, gli ho dato un nome, che in questo caso l'ho chiamata così, e poi ho scritto delle variabili, pcolor, ho messo p perché sta per parametro, mi sono dato una regola, così quando poi vado sotto a leggere il codice, se leggo p so che è un parametro che mi sta arrivando da Excel, quindi è più semplice poi capire. L'ho definita come range perché vado a leggere l'informazione di una cella, quindi vado a vedere che colore ha quella cella. p range è sempre classica range perché vado ad analizzare il range di celli che voglio vedere per poter fare la somma, e poi ho messo optional, se voglio fare una somma oppure un conteggio, che in realtà non sarebbe tanto optional perché se non metto niente, ok, lui praticamente effettua il conteggio, quindi oltre a se vogliamo fare la somma mettiamo s, oppure potremo mettere un altro carattere, oppure non mettere niente, se non mettiamo niente lui va a fare il conteggio. Poi come funziona qui? Definisco il colore, quindi che cosa vado a fare? Ho dato delle informazioni con le proprietà che vado ad utilizzare con dei metodi, quindi tint and share, quindi prendo p color, che cos'è p color? E l'informazione, la cella che io prendo, quindi è il primo parametro che gli passo di qua, quindi prendo l'informazione di questa cella. Che cosa prendo da questa cella? Mi prendo la tinta, poi faccio il tema del colore, perché in base al tema potrei avere, cioè io potrei avere due colori che si assomigliano con lo stesso codice, quindi per avere poi l'univocività del colore devo avere anche il tema abbinato, perché magari ho lo stesso codice colore, ma il tema è differente, ok? Quindi servono queste due informazioni per definire bene il colore alla perfezione, quindi possiamo usare più colori di quelli che vediamo nella tavola, possiamo utilizzare tutti i colori che vogliamo. Avremo sempre un codice univoco. Poi ho generato una variabile all'interno, rcell, perché ci serve poi per andare a ciclare il nostro ciclo, e poi ho generato una variabile al risultato che sarà di tipo doble, così posso gestire la virgola. Poi cosa faccio? Se pSumCount, che è il parametro qua su che arriva ad Excel, è uguale a s, allora praticamente vado a fare la somma, altrimenti, quindi se non metto il parametro, metto un altro carattere, vado ad effettuare il conteggio. Allora, vediamo prima il conteggio che è più semplice. Io qua faccio for each, quindi per ogni rcell, quindi rcell che è qua, in pRange, quindi io vado ad analizzare ogni singola cella, qui avrò il risultato che contiene, che sarà contenuto sulle celle del pRange, quindi se io qui vi vado a dire questo range, quando io entrerò a fare il primo ciclo, lui mi darà il risultato su rcell di 10, poi quando vado a fare il secondo ciclo del for, mi darà il risultato di 46, poi 16, poi 31, poi 5, poi 37, quindi lui analizza la riga, poi passa alla successiva. Funziona così il discorso del rcell, quando metto un range all'interno del for, quindi per ogni cella, for each, in pRange, quindi vado ad analizzare tutte le celle del range che ho passato. Poi io sotto gli dico, se il colore, ok, della cella, quindi rcell, vedete, per ogni cella, quindi quando lui qui è rcell, io do rcell interio e gli do la tinta e prendo anche il colore. Quindi lui analizzerà qui e mi darà il tema e il colore, il codice colore di questa cella. Poi quando farò for, farò next for, adesso abbasso un attimino che non si vede, quindi farò praticamente che for each e poi faccio next rcell, lui passa di qua, quindi quando vado ad analizzare questi due codici mi darà il giallo. Quindi gli dico, se la tinta è uguale alla tinta che ho valorizzato quassù, che è il parametro pColor, quindi se questa tinta è uguale alla tinta che sto analizzando di qua, allora entra nella funzione, altrimenti no. Però deve essere sia la tinta, and, ho messo, e anche il tema, quindi tutti e due devono corrispondere a questo e a questo, vedete che qui ci sono le due variabili che ho valorizzato sopra. Quindi se questa condizione è vera, allora prendo il risultato che al primo ciclo è praticamente niente, e faccio 1 più se stesso, poi lui va avanti, c'è la 2, c'è la 3, c'è la 4, quindi va avanti così, ogni volta che trovo una cella lui prende la variabile risultato e aggiunge 1, così posso fare il conteggio. Invece la somma è un po' più diversa, quindi il procedimento è lo stesso, stesso identico for it, stesso identico if, perché dobbiamo vedere se il colore è corretto, solo che il risultato noi faremo una formula, worksheet function.sum, quindi noi faremo la somma di rcel, risultato, quindi dobbiamo passare due parametri. Noi cosa facciamo? Gli dico, guarda, prendi il valore di rcel, perché abbiamo detto che rcel mi dà il valore della cella all'interno del for it, quando io ciclo mi dà 10, 46, eccetera, ok? Quindi ad ogni ciclo il primo ciclo mi darà 10, quindi gli do virgola risultato, quindi lui dirà che il risultato è uguale a 10,0, perché all'inizio il risultato è uguale a 0. Poi quando fa il secondo ciclo lui vede 46, 16, 31, 5, poi troviamo un altro arancione, 37, ok? Quindi lui avrà in corpo 37, lui farà 10, scusate, lui farà 10, che è il risultato, più 37 e diventerà 47, quindi poi questa si ricalibra, perché lui somma questo più questo. Io sommo i valori che sono all'interno dei parametri che io metto qua, potrei metterne anche di più, però sommo questi due parametri. E qui faccio semplicemente la somma. La cosa bella di questa funzione è che noi la capiamo all'interno di Excel, poi basta appunto andare a richiamarla e possiamo andare a fare una somma per colore anche su un range di colonne. Ed è una funzione semplice e veloce. Attenzione solo a una cosa, ha due cose che il Visual Basic di per sé è lento, quindi quando io eseguo questo calcolo, lui scrolla riga per riga il codice, quindi lui legge tutte le righe per eseguire il calcolo, quindi anche qua il ciclo, lui si cicla tutto il range. Quindi se avete pochi dati può essere una soluzione utile, altrimenti dovete utilizzare, trovate in sovrappressione un video che vi spiega come fare la somma e il conteggio per colore utilizzando una delle formule di Excel, che è un po' meno potente di questa, però funziona molto bene. Perché se avete ad esempio un milione di righe, se avete 500.000 righe, il Visual Basic inizia a diventare lento, va bene, fino più o meno a 30-40.000 righe, poi comincia a non andare più bene. L'altra cosa, che è valida anche per l'altro video in cui vi faccio vedere con le formule di Excel, che se io vengo qua e faccio formato colore e faccio così, il Visual Basic si aggiorna in automatico. Però se io vengo qui e cambio il colore in manuale, vedete che non è cambiato, io devo venire qua a fare F2 e dare l'invio. Oppure devo fare CTRL-ALT, quindi CTRL-ALT-F9. Ora così io vado a forzare il ricalcolo del foglio, quindi se giocate con i colori quassù, bisogna effettuare un ricalcolo. Quella formotazione condizionale dovrebbe funzionare in automatico. Ok, direi che anche con questa lezione è tutto, se è stato di vostro aggredimento, lasciate un bel like al video qua sotto, iscrivetevi se non siete iscritti, invece se vorrete supportare il canale, magari pensate a stipulare un abbonamento, trovate il bottoncino abbonati qua sotto, dove c'è un video che vi spiega tutto quanto nei miei dettagli, oppure potete acquistare qualcosa da merchandising, trovate sempre tutto sotto, ad esempio la tazza, il cappellino, magliette, tappetini per il maestro, di tutto e di più, troverete sicuramente qualcosa che vi piace e acquistando appunto un prodotto mi aiuterete a sostenere appunto il canale. Vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!